Fermato c'è Totti che può spingere di nuovo il contropiede, attaccato da Cambiasso, riesce ad andare via, poi salta anche insieme a Ria, insiste ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallometto, Francesco! Totti! Un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0! Grande, grandissimo gol, perché ha puntato l'avversario, si sono mossi molto bene i suoi compagni che hanno permesso a lui di... Grazie a tutti! Paz e Miralem, eccolo il tentativo di tiro, la palla respinta, il capitolo Miralem! Paz e 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 Miralem! a celebrarie, people! He finishes in his coolest gym!